6 barzellette per assaporare il lato divertente del cibo Un uomo entra in un ristorante e chiede Mi scusi, quanto tempo per una carbonara? Il cameriere risponde 5 minuti L'uomo E per una alla matriciana? Cameriere 10 minuti L'uomo esclama Allora mi dia una carbonara Ma la faccia cuocere per 10 minuti Un cliente al ristorante guarda il menu e domanda al cameriere Cosa mi consiglia tra l'insalata? Sorpresa E il piatto Delizia dello chef? Il cameriere risponde Dipende Signore Vuole avere una sorpresa o essere deliziato? Due amici dopo aver mangiato in un ristorante di lusso chiedono il conto Uno sviene vedendo la cifra e l'altro chiama il cameriere Mi scusi Potrebbe portarmi un po' di sale? Cameriere Perché Signore? Non era abbastanza salato il cibo? L'uomo No È per cospargere sul mio amico Dato che il conto l'ha già conservato Che il conto l'ha già votata. Non parla che il conto l'ha già Tiger Si , sia stato di wall